Ciao, mi chiamo Stefano Laluna e nella vita mi occupo di capelli. Insieme alla mia squadra straordinaria sono impegnato a prendermi cura di te e portare il tuo stile al massimo. Lavoro soprattutto con donne, fidanzate o single, impiegate, imprenditrici o disoccupate, che a un certo punto della loro vita non si rispecchiano più nella loro immagine oppure si sentono poco amate dal loro parrucchiere. Ed è lì che, grazie ad un ascolto, una consulenza su misura, il taglio ed il colore di capelli che ti valorizzano di più, ridefinisco la tua nuova immagine manifestando la tua unicità. Vuoi saperne di più? Vai su airmoon.it o chiamaci allo 085 21 95 502. Ciao, grazie a tutti, a presto! Ciao, grazie a tutti! Ciao, grazie a tutti!